Come mai la Basilicata, che fornisce l'80% del petrolio italiano, è la regione più povera d'Italia? Questo lo chiede a me. Noi paghiamo royalties, tax e pregetti sociali, li facciamo, forse non sono una persona giusta a cui fare questa domanda. Le royalties d'Italia però sono le più basse al mondo. Perché diamo il 100% delle royalties in Basilicata. Io tanto sono contento di aver venuto perché lei è come se fosse un ministro degli esteri, perché il nostro è un po' assente, la determinata è più voglia. Io volevo chiedere se secondo lei i flussi migratori dipendono un po' dalla politica azientale di Eni, soprattutto in Africa, i paesi da cui se ne vanno orientati. Direi proprio di no, perché noi siamo un'unica società che ha investito in Africa, investe in energia e investe nella parte sociale. Direi che non penso proprio che dipenda da Eni. Le risorse di quei paesi creano grandi utili per la vostra società. No, ma noi investiamo lì. La Nigeria è un paese più basso. Paghiamo il 92% di tasse in Nigeria. Grazie.